siamo in via arno la strada che costeggia l'aeroporto di pratica di mare è la strada che fa da confine tra il comune di roma e il comune di pomezia e si troviamo nel comune di pomezia questa scena che vi stiamo mostrando si ripete tutte le sere auto ferme con la gomma anteriore destra scoppiata a causa delle buche e che cosa abbiamo qui stasera abbiamo i carabinieri che stanno cercando di aiutare le persone a non rimanere colpite da altre autovetture che vengono e che le sorpassano di notte una scena apolitica non siamo nel terzo mondo ma siamo nel comune di roma al confine con il comune di pomezia ragazzi questo si ripete ogni sera chi paga nessuno e fortunatamente che non ci sono motociclisti perché ha piovuto perché sennò non cambiavamo le gomme ma avevamo ben altri problemi questo è quanto accade ogni sera